Allora, buonasera ragazzi, appena finito il derby d'Italia, pareggiamo 1-1 in casa con i prescritti. Una partita che io ho visto la prima mezz'oretta, poi ogni tanto rimettevo, cambiavo, vedevo insomma com'era la situazione. Ho visto subito dopo il gol di Vlaovic, ho visto qualche minuto, ho cambiato poco prima del gol dell'Inter, comunque ogni tanto poi vedevo com'era la situazione. Allora, devo dire che la prima mezz'ora, per quello che ho visto io, una partita abbastanza equilibrata, una Juve che ogni tanto non aveva neanche paura di alzare un pochino il baricentro, una Juve che ogni tanto andava anche a prendere discretamente alta l'Inter, squadra di Nzaghi che è partita con un paio di tiri, uno di Cialanoglu dalla distanza, un colpo di testa di Turam, si era resa pericoloso anche con Lautaro Martinez, però a sbloccarla siamo noi con un pallone recuperato da Vlaovic a centrocampo, smistato per chiesa sulla sinistra, che crossa a basso al centro dell'area per lo stesso Vlaovic che mette all'angolino, alla sinistra di Sommer, il gol del vantaggio, e poi però dura solo sei minuti il vantaggio nostro, perché poi con un'azione loro sono partiti dal basso, da Sommer, tutti passaggi veloci, cross in mezzo e Lautaro incrocia per l'1-1, un gol dalla dinamica simile a quello che ha portato al vantaggio nostro, quanto a situazione del gol, il cross in mezzo, basso e poi lui che ha incrociato. Sostanzialmente poi nel secondo tempo, da quello che ho capito, non è che ci sia stata una grande partita, specie nei minuti iniziali del secondo tempo, in cui le due squadre non hanno voluto esporsi, non hanno voluto rischiare più di tanto, non hanno preso in mano l'iniziativa, non sono state propositive, forse però un po' di più ha fatto l'Inter, questo sì, qualche azione in più pericolosa l'ha creata l'Inter, però niente di particolarmente pericoloso, infatti diciamo che il risultato rispecchia quello che è stata la partita. L'unica cosa che un pochino mi rode, se vogliamo, è sempre lo stesso vizio nostro, cioè dopo il gol, comunque tu eri in vantaggio, tu devi continuare perlomeno a giocare. Noi dopo il gol ci siamo rimessi dietro e abbiamo concesso a loro la possibilità di attaccare e di farli salire un po' di più, lasciandovi il pallino del gioco. E questa è una cosa che non è sopportabile, e specie con delle squadre organizzate così come l'Inter, che hanno 10 gol in più rispetto a te, è una squadra che se ti mette sotto te si magna, infatti dopo 6 minuti che sei stato dietro a prendere le pallonate hai preso il gol. Un motivo ci starà, l'Inter in attacco è molto organizzata anche a livello di squadra, perlomeno un ragno dal buco lo cava, riesce a partire dal basso, arriva in porta, a differenza tua, e infatti sei visto dopo 6 minuti che sei stato messo sotto, ripeto, hai preso gol. Quindi un motivo ci sarà. E questo è l'unica cosa che non mi è piaciuto. Poi per il resto, ripeto, è stata una partita il cui risultato rispecchia in pieno quella che è stata la gara in generale, senza troppi acuti né da una parte né dall'altra, e sostanzialmente il pareggio l'uno a uno era il risultato giusto. Adesso l'Inter si porta a 32, Juventus a 30, più 4 sul Milan a 26, e quindi le distanze in classifica rimangono sempre quelle. Rimaniamo a meno 2 dall'Inter capolista, e noi speriamo poi di riacciuffarla con il passare delle giornate, sperando di fare meno passi falsi possibili, ovviamente noi. Questo è il quanto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, buonanotte, fino alla fine, sempre forse io, dai.